In alto le bandiere arancioni, la meraviglia è tutta qui sui Monti Dauni che innalzano sette vessili del Touring Club italiano sui 13 pugliesi. La provincia di Foggia in una cerimonia ringrazia Alberona, Rocchetta, Orsara, Troia, Bovino, Sant'Agata e Pietra Monte Corvino. I borghi dall'eccellenza certificata non risparmiano una postilla sulle strade guardando con interesse agli altri milioni del patto per la Puglia. Ma è un giorno di festa e orgoglio che celebra la grande bellezza dei Monti Dauni. Orsara si prepara a partire per Milano, rappresenterà i comuni col marchio di qualità dal 13 al 15 febbraio alla BIT. Noi abbiamo tante risorse, perché devono venire a visitare i Monti Dauni? Perché abbiamo tanti beni culturali e ambientali, i beni storici, tanto perché noi stiamo lavorando anche per quanto riguarda i beni storici e culturali. Stiamo avendo anche dei finanziamenti grazie alla programmazione 2020 e 2014. Quindi è vero che non abbiamo il Colosseio, però abbiamo tanti castelli, tante torri. Noi per esempio abbiamo Torre Guevara che adesso stiamo lavorando, la stiamo completando, dove verrà un museo e poi verrà anche una scuola di cucina. Si conferma la meraviglia di Pietra e dei Monti Dauni? Si conferma la meraviglia di tutti i Monti Dauni. Questo è un risultato che il territorio tutto insieme ha raggiunto e che ovviamente sta portando avanti. Non è una cosa che è fine a se stessa, perché i criteri per qualificare e per certificare i borghi sono tantissimi, che vanno rispettati anno dopo anno. Cosa significa avere questa bandiera arancione per voi? Significa migliorare sempre di più la qualità della vita dei propri cittadini, questo significa, e impegnarsi sempre di più a rendere le nostre piccole cittadini sempre più vivibili. In particolare a Alberona siamo molto orgogliosi perché è stato il primo borgo in Puglia ad ottenere questo riconoscimento. C'è stato riconfermato fino al 2020, vuol dire che abbiamo lavorato bene in tutti questi anni. Cosa vi ha portato in questi anni? Ha portato intanto uno stimolo a fare sempre meglio. Sono nate tante infrastrutture per rimanere ad Alberona, immagino il villaggio turistico con piscine, campi, anfiteatro, nuovi alberghi, nuovi ristoranti, insomma c'è un importante movimento.